Qui c'è un riconoscimento da parte di tutti, di chi viene dall'Emilia Romagna, da Veneto, dalla Toscana, vengono a dirci, le performance della Campania non sono performance che si trovano in Italia, sulla riduzione del deficit, sulla gestione dell'organizzazione e dell'organizzazione del sistema, di tutti gli obiettivi che sono stati raggiunti per una buona sanità. E quello che manca alla Campania è la logica nazionale sulle regioni e le piene di rientro, perché poi alla fine ti chiedono sacrifici ma ti penalizzano sulle risorse, questa è una cosa che non sta in piedi. Quindi noi questa parte, da una parte facciamo il nostro lavoro perché bisogna essere seri per garantire una buona sanità, una buona salute ai cittadini, se non hai i conti in ordine, non hai una buona organizzazione non gliela potrai dare mai, perché vuol dire che ci sono sprechi, quella che è stata per noi per tanti anni la politica fatta nella sanità campana è stata fatta tutta legata a sprechi e alla politica che comandava di più della necessità di curare il cittadino. Questo è stato purtroppo il punto negativo della Campania e quindi siamo andati in piano di rientro, siamo stati sanzionati per tanti motivi. Ora abbiamo messo le carte in ordine e conti a posto, abbiamo dimostrato di essere più bravi degli altri, quindi oggi possiamo, ecco, si può alzare la voce quando hai fatto le cose che devi fare, perché se la alzi e non fai le cose e nessuno ti crede. Bisogna farlo, oggi abbiamo le carte in regola, ci viene riconosciuto, il piano nazionale Esiti dimostra che c'è una criticità al sud molto seria, quindi vuol dire che dobbiamo avere più risorse, perché le risorse che oggi possiamo avere, dove hai fatto i sacrifici, devono essere tutte quante riversate sulla buona sanità, quindi sull'organizzazione, sulla garanzia di avere un territorio che sia in grado di leggere le esigenze e le domande dei pazienti e soprattutto un'organizzazione ospedaliera adeguata. Abbiamo realtà di eccellenza, si dimostra anche qui, anche se in un dato al sud non certo positivo, ma guardiamo le cose che funzionano bene, quindi se c'è una che funziona bene, facciamo in modo che anche le altre vedano quello come un punto di riferimento.